...delle ore 19 e 38, è in arrivo al binario 3, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma a riverno, costa nova, monte San Piero per la fine mare, fuci per rossa, foglie e veda, in turno scavi, se il caudullo e rocchemontina, basta lungo un dragone caricolato, da riverno, alla nova, a presto, costa nova, a presto. ...delle ore 19 e 32, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ...delle ore 19 e 32, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, Grazie a tutti. Grazie a tutti.